Ci colleghiamo con, facciamo una parentesi di volley, ci colleghiamo con mister Angelo Lorenzetti, allenatore della Trentino Volley. Buonasera mister. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Grazie naturalmente a te per aver accettato il nostro invito. Allora mister, oggi turno di riposo per ricaricare le energie, un turno di riposo ancora più dolce dopo la vittoria importante di mercoledì 3-1 contro il Taranto. Sì, è un periodo molto intenso e ci prepariamo per un altro momento molto lungo e molto intenso che prevede l'inizio della Champions e soprattutto la trasferenza in Brasile per il campionato del mondo per club e quindi abbiamo questi quattro giorni che cerchiamo di sfruttare per mettere un po' di benzina nel serbatoio che era un po' quasi in riserva. In riserva. Casischi con 18 punti, la via soprattutto con 22 ma anche Micheletto con 16. Sono stati questi tre i giocatori più importanti della trasferta pugliese. Intanto stiamo vedendo le immagini della vittoria. C'è un po' tutta la squadra, è chiaro come nella polavolo i tre schiacciatori sono quelli che alla fine finiscono quasi sempre in doppia cifra con più palloni degli altri, però penso che in un ambiente non facile con una squadra esperta e i ragazzi anche alto e basso abbiano mantenuto fede alla promessa di cercare a tutti i costi i tre punti e l'hanno fatto con una discreta pallavolo. Avete sofferto i primi due set, nonostante ovviamente il primo l'avete vinto 25 a 23, il secondo l'avete perso 27 a 25, il secondo e il terzo non dico che sono stati facili ma sono stati sicuramente molto più agevoli visto che avete vinto 25 a 18 e 25 a 19, mi confermi mister? Sì, nella Superlega lo strano sono il terzo e il quarto set, i set ai vantaggi nella Superlega è una normalità perché è un campionato di livello assoluto, molto equilibrato, ovviamente ci sono delle squadre che vincono più delle altre ma questo qui nel lungo periodo, nella giornata secca con tutti bisogna soffrire come giusto che sia e fare il proprio massimo per puntare a vincere il set nel finale. Mister, facciamo un mini bilancio di questa prima parte di regular season? Ma il bilancio insomma lo fanno un po' i tifosi, i giornalisti, io dal mio punto di vista sono in linea con quello che avevamo fissato sia a livello di programmazione sia per quel che riguarda il sistema di gioco, un sistema nel quale condiveremo per tutta la stagione con due diverse formazioni, del tempo ce ne vuole, la formazione base è quella con i tre schiacciatori quindi con il finito opposto, di tempo ce ne vuole, però certe cose hanno buciato le tappe, sulle altre invece vi dobbiamo insistere, su questo sono contento e soprattutto sono contento dell'effetto del tempo perché mi sembra che questo mix di esperienze e gioventù stia producendo una buona professionalità in palestra e questo è di buono spiccio per andare a raccogliere e cercare i miglioramenti che vogliamo. Mister, allora adesso ci sarà la Champions a Perugia, contro Perugia naturalmente, poi il Mondiale per Club in Brasile e poi ancora Champions contro Istanbul, insomma impegni veramente molto importanti e soprattutto stimolanti. Sì, assolutamente sì, come hai detto tu, sono due impegni che sembrano tanto diversi, non lo sono perché tutti e due sono molto veloci e molto rapidi, la Champions è un appuntamento in cui ovviamente siamo stati inseriti in un girone dove rincontreremo Perugia che come tutti sanno è una delle squadre al mondo e per conquistare l'accesso al prossimo turno dovremmo cercare di fare grande attenzione con le altre due squadre, con la squadra turca e la squadra francese e poi sperare che negli altri gironi non ci siano sorprese, perché tre delle cinque si fanno, ovviamente con Perugia dobbiamo spararla tutto lo stesso, pur essendo loro favoriti, perché magari un punto o qualche sette possono fare la differenza in questa classifica bulsa. Mister, ora ho contato, il campionato del mondo è un qualcosa, anche in qualità dei ragazzi dello scorso anno che hanno raggiunto la finale e quindi siamo invitati di diritto a questa manifestazione, che è una manifestazione un po' particolare, che cambia formula spesso e volentieri, ma che comunque è di assoluto prestigio e l'inserimento all'ultimo momento al posto del campione d'Europa della Civitanova, sale anche a quel livello e questo è un onore per noi di parteciparvi e cerchiamo di parteciparvi cercando di arrivare fino in fondo. Mister, ho contato in un mese nove gare, tra cui ovviamente il viaggio in Sud America andato e ritorno, meno male che la Champions si gioca in Italia, cioè almeno che giocate la Champions in Italia e si lamentano tanto i calciatori, ma anche voi insomma avete il vostro da fare. Sì, diciamo che per quel che riguarda i palavolisti, soprattutto i palavolisti che frequentano la Nazionale, a livello di partite sono tantissime, questo è un problema che non si risolverà mai purtroppo perché gli interessi economici sono tanti, però alla fine rimangono col cellino in mano spesso e volentieri sono i club perché gli infortuni di questi giocatori sono tanti e la palavola non può permettersi di prendere il calcio e delle trasferte tipo le squadre del calcio, quindi spero e aspiro che un giorno almeno la palavola italiana apra gli occhi per fare il calcio e delle nuove formule di campionato che garantiscono almeno un periodo di perdone per questi giocatori perché durante l'estate, tutte queste state loro lavorano e la fisiologia non interessa nulla dei campionati che facciamo noi e prima o poi qualche fisico si rompe. In questo primo periodo in Italia che all'estero ci sono stati tantissimi infortuni spero che qualcuno veramente apra gli occhi e che si possa soddisfare un obbligo morale ed etico che è quello della tutela della salute e in questo caso dei giocatori. Ultima domanda mister, abbiamo detto Champions, mondiale per club Champions e poi si ritorna in campionato contro Cisterna e Milano, non hai paura di un piccolo calo di concentrazione in queste due partite di regular season? Ma è ovvio che sarà importante capire e vedere come noi usciremo non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista agonista, nazionale, da queste due manifestazioni internazionali. Tuttavia insomma ecco questo gioco d'andata per noi era un po' lì, adesso siamo in una classifica che ci piace, sappiamo che la regular season conta poco però cercare di mantenere le zone alte di questa classifica è la nostra volontà e vedremo se ci sarà necessità di alternare le forze sapendo che nell'alternare un rischio perché il livello come dicevo prima del campionato è molto alto però noi siamo fieri e orgogliosi di partecipare a questa manifestazione e di ogni azione che comporta dei costi e dei ricavi e dovremo supportarli con tutti quanti con attenzione cercando di far risaltare i ricavi e riducendo al minimo i costi. Grazie mille mister, quindi naturalmente in bocca al lupo e buona serata. Buon corso anche ai colleghi che hai in ospite e a Davide. Grazie mille mister.